Ciao a tutti, bentornati su Parole in Pentola. Oggi parliamo di una graphic novel, che è anche una biografia, ed è Mary Shelley e la morte del mostro. È una graphic novel di grande impatto visivo, molto concisa, divisa per capitoli, segue la vita di Mary Shelley dall'incontro con Persi e i poeti romantici dell'epoca alla morte, in picchiaia. I toni che ritroviamo nella graphic novel, i colori, sono quelli che si vedono qua in copertina. Abbiamo una palette che va dal nero al grigio con il bianco a fare da contrasto e delle sfumature di rosso. Il rosso ricorre in vari momenti, come cielo, come sangue, come contrasto, vestiti, labbra. È un periodo buio, quello in cui è ambientata questa graphic novel. C'è un grande dualismo, diciamo, della nostra protagonista e lo vediamo rappresentato dalla presenza di due fumetti. Abbiamo il bianco e abbiamo il nero. Il nero che rappresenta il mostro, rappresenta l'interiorità, rappresenta il vero io dell'autrice di Frankenstein e il bianco che invece è la parola espressa. Quindi ciò che veramente viene pronunciato e non quello che magari si cela dietro ad un'apparenza, ecco, che deve essere tale per salvare, diciamo, quella che è una vita che non è andata come sarebbe dovuta andare secondo i progetti di Percy, di Lord Byron e quelli della stessa Mary. Il mostro, la creatura, il moderno Prometeo sono figli di un periodo in cui la scienza stava facendo delle scoperte importanti, diciamo, riguardanti l'anatomia, l'elettricità, la galvanizzazione e ritroviamo questi passaggi alla nascita del mostro e sono, diciamo, lontani da quella che era stata finora la rappresentazione del mostro. Il mostro era mostro, nasceva come tale e come tale si comportava e rimaneva. In questo caso Mary si avverte, diciamo, quelle che sono i precedenti letterari e il mostro viene creato, rinasce da brandelli umani. Da qui, diciamo, anche la vita di Mary cambia, emergono dei tratti che forse nessuno avrebbe creduto possibili, presenti in una società maschilista, in una società in un momento di cambiamento, in un momento particolare circondata da uomini infedeli, donne, in un vortice di disgrazie, purtroppo. Mary mette da parte un po' la sua creatura per poter sopravvivere ai suoi tempi. E in questa graphic novel diciamo che c'è questo dualismo, questa lotta continua tra Mary e il mostro che poi è anima, appunto, che poi è inconscio, che poi è strascico di vita diciamo che va a rappresentare altro oltre al mostro in sé in questo caso e alla fine Mary si riappacificherà con la sua creatura in punto di morte rendendole giustizia e rendendo giustizia anche a se stessa. È una graphic novel molto interessante che apre un sacco di spunti di riflessione e porta a una voglia di conoscenza maggiore dell'autrice ma anche del contesto storico e degli altri personaggi che appaiono in queste pagine. Il marito Persi che forse non aveva la stessa diciamo creatività. Ecco, non ha avuto lo stesso lampo di genio della moglie. Tra l'altro sul finale del libro io non lo sapevo questa cosa. Nelle note bibliografiche c'è scritto che il vero romanzo scritto da Mary inizia il quarto capitolo dell'odierno Frankenstein. Le prime pagine i primi capitoli sono un'introduzione che Persi aveva ritenuto necessaria. Quindi comunque quest'uomo che era stato tutt'altro che fedele tutt'altro che presente ha nonostante tutto messo lo zampino diciamo in quella che era la creatura di Mary. Le ha stravolto la vita gliela cambiata in un certo senso abbandonata anche se tragicamente con una morte assurda insieme all'ottimo e folle probabilmente Lord Byron. sono due poeti romantici che hanno vissuto circondati dalla leggenda e sono rimasti nella leggenda sia uno che l'altro. Però questo libro diciamo dà una nuova luce ecco a Mary Shelley che non è solo l'autrice di Frankenstein è anche qualcosa d'altro qualcosa di molto più importante e anche la la sua provenienza la sua famiglia il padre famoso letterato la madre una pioniera nei diritti delle donne abbiamo elementi anche se non approfonditi ma sparsi qua e là nella graphic novel che ci portano davvero a voler conoscere molto di più di questa autrice per chi ha letto Frankenstein per chi non l'ha letto secondo me è una lettura molto bella breve scorrevole di grande impatto emotivo e visivo da affiancare a quello che è la classica lettura di un grande classico direi quindi lo consiglio appunto non è super approfondito però regala degli spunti veramente interessanti e regala un nuovo punto di vista che penso sia la cosa più importante ecco perché parlare sempre delle stesse cose in modo diverso sì è bello ma non ci porta tanto lontano in questo caso aggiungere dei dettagli aggiungere degli spunti di riflessione aggiungere appunto un nuovo filtro da cui vediamo quella che è la classica storia di Mary e del mostro è molto più interessante veramente molto più importante forse per per arricchire il lettore quindi ve lo consiglio è breve ma ma molto molto carino molto bello molto interessante e appunto emotivamente coinvolgente quindi Mary Shelley e la morte del mostro di Raquel Lagartos e Julio Cesar Iglesias c'è tutto in questo cognome e nome fatemi sapere se l'avete letto fatemi sapere se vi interessa se lo leggerete fatemi sapere se siete degli appassionati di questo periodo della letteratura che tendenzialmente per chi ha studiato lettura inglese è un periodo dove sono nati i classici e gli stili forse più emblematici ecco di quello che è quello spirito della letteratura inglese e noi ci vediamo al prossimo video mi trovate su tutti i social come Parola in Pentola ma questo lo sapete già e a presto quindi buona lettura e mi raccomando approfondite ciao ciao